Ok, ragazzi, ancora una volta dall'inizio! Siamo veramente troppo perfette! Sono le tre squadre migliori, accedono al prestigioso campo terror leading delle spiagge oscure per le vacanze di primavera per poi andare alla sfida delle mostro finali! Niente può... Ah! Frankie! Forse dovrei dire... Anello debole... Ecco, ho svoltato, poi avrei dovuto staccare prima di svoltare e poi si è staccata la gamba! Se vuoi smettere di essere in prova per la squadra di terror leading, devi almeno riuscire a ricomporti alla svelta! Guglia, voglio prendere una bebita, ok? Voi continuate a lavorare! Passami quello che ti do questo! Ma mi fa la faccia tutta blu! Ma la tua faccia è blu! Ehi Frankie, come va con la squadra? Ah, bene! Benissimo, sì! Figurati, Cleo, non ho certi esigeni! Oh, dispotica! Oh, silenzio! Arrogante! Oh, irritante! Va bene, ma è solo perché esige il massimo da noi ed è un bene avere un obiettivo! Sai cosa, DL? Mi chiamo Draculaura, la tua spalla va a fuoco! Stai solo facendo finta di non bruciare d'amore per me! Ma aspetta e vedrai! Verrai con me al ballo per il raduno dell'incubo sportivo! Ai! Perché l'hai fatto? Perché tu sogni se pensi che verrai con te! Andiamo! Una doccia fredda è già troppo! It è così tanto fastidioso! Stai iniziando a piacere! Serve un PC con me adesso! Era veramente terribile! Stai scherzando? Quella sequenza era davvero stupenda! Stupenda non è sufficiente! Deve essere perfetta per arrivare alle spiagge oscure! Hai ragione, come al solito! Volevamo farti vedere una nuova sequenza su cui abbiamo lavorato! Guarda qui! Lasci qui! Cosa diciamo? Tutto è così? Mogliamo! Mogliamo! E sì! Che cosa sarebbe uno scherzo di cattivo gusto? Oh, non è uno scherzo! Il tuo regno del terrore è arrivato al termine! Noi vogliamo far parte della produzione scolastica del fantasma dell'operatorio! È lì che stanno adesso tutte le gattine di classe! Una fortuna! Con la nostra finale! Miau! Perché sei ancora qui? Sono così nuova che nessuno mi prende sul serio! Tranne te! Ed è per questo che mi applico tanto nel terror leading! Per cui io non me ne vado! Perché ci hai messo così tanto? Ehi, dato che sono l'unica rimasta mi dovrei promuovere a membro della squadra, giusto? Benissimo! Adesso fai parte della squadra! Tu sei degradata! Andiamo, Gulia! Devi andare a lavorare su dei volantini! Ci serve del sangue fresco per la squadra! I provini inizieranno domani mattina!